voglio stasera una faccia diretta perché praticamente mi sono smontato in un po' perché stasera come sapevate nel programma che abbiamo stilato il nuovo programma di diretta c'è Steve questo nuovo format che volevo provare che era quelli che è il calcio vabbè che oggi non ci stavano le partite però gli avrei voluto comunque riuscire a provare a fare una diretta con con i moderatori insieme nella diretta in collegamento su chi lo si può fare con youtube si può fare il fatto che in diretta stanno pure loro si vedono anche loro si vedono si sentono anche loro però purtroppo mi fanno ancora delle prove tecniche perché sta cosa necessita di un po' di prove tecniche vabbè comunque la diretta stasera ne la faccio perché voglio rispettare questo programma e me ne f***o non voglio è proprio perché mi ero proprio grippato che si vuole fare? ma andare a fare qualcos'altro non mi va rimane però ricominciamo con la settimana mi metto a giù con Mario Bros quindi rimane un velo l'ora perché veramente non vedo l'ora e poi non lo so forse 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 stanotte può essere una bella e buona piglianata capata e farci una bella by night però non lo so va bene l'importante che faccio avvisate che stasera non c'è stata diretta quindi voglio pigliare delle feste e ci avremo domani sicuramente forse anche stanotte vabbò ma non lo so non voglio buona sicuramente